Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Oggi volevo registrare un make up tutorial Ho utilizzato per realizzare questo trucco Questi prodotti Allora, questa palette della Essence Scusate Con questi Con questi colori Con questi colori Precisamente ho usato questi Il marrone più chiaro e il panna Ok Poi ho utilizzato Un eyeliner nella collezione make up in beauty Di detto fatto Questo Poi ho utilizzato Un mascara di Max Factor Questo Poi ho utilizzato Questo rossetto della Non mi ricordo mai la marca Vabbè Questo rossetto della Non mi ricordo Comunque questo Cioè questo Questo colore qua Poi ho utilizzato Questa matita Della Debilan numero 02 E poi ho utilizzato Questo primer di Avon Che non era Chiuro bene A momenti mi cadeva il vasetto Questo primer di Avon Il mio solito primer Io adesso vi saluto Vi lascio a video Io adesso vi lascio a video Grazie a tutti. 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 Se invece avete visto per la prima volta un mio video e volete vederne degli altri, iscrivetevi al mio canale. E se invece volete farlo vedere a delle vostre amiche oppure ai vostri parenti, condividete pure il video. A me fa soltanto piacere. E prima di salutarci vi volevo dire un'altra cosa. che mettete mi piace al video se vi è piaciuto. Se volete commentare fatelo che io vi rispondo magari non subito ma vi rispondo, ve lo posso assicurare. se avete delle particolari richieste, scrivetemelo nei commenti, che io cercherò di esaudirle tutte. detto questo ho finito di parlare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!